Bella a tutti ragazzi, eccoci qua tornati, sono Mattex Oggi vi porto un video un po' speciale Come sottofondo vedrete la partita Chelsea-Lione della demo di FIFA 17 Per illustrarvi un po' il gioco E poi vi porterò la mia idea per i futuri video qui su Youtube La mia idea è portare una carriera, ma una carriera diciamo diversa, una carriera un po' particolare Dove noi andremo a fare il mercato, a fare le tattiche della squadra, la primavera, tutte queste cose gestionali Le partite le simuleremo, nel caso dovessimo andare, faccio esempio, in una finale O in qualche partita diciamo importantissima, queste cose la faremo sicuramente Poi vediamo la prima stagione come va Se per caso voi voleste vedere le partite, non c'è problema, inizio anche a far vedere quelle Come carriera ho già stirato una lista di idee Ho fatto il sondaggio Così dopo che sentirete le idee potrete andare a votare Così da aiutarmi a scegliere la squadra da portare per la carriera su Youtube Allora, ho scelto due squadre per ogni nazione diciamo che mi poteva interessare Due dell'Italia, due dell'Inghilterra, due della Spagna e due della Francia Da dare così maggiore scelta Ad esempio, quella italiana sono Frosinone e Chievo Verona Frosinone perché l'anno scorso ci ho fatto la carriera giocatore Mi sono trovato bene, anche la divisa mi piacevamente tanto Che dire, mi piacerebbe molto portarla per fare un progetto italiano Con tutti i giovani italiani Creare già una primavera, se non il primo, il secondo anno Cercare di riportarla in Serie A e piano piano farla crescere Il Chievo non l'ha portato diciamo mai quasi nessuno Io ho fatto una carriera mi pare in FIFA 12, in FIFA 13 Però è andata male Era andata male perché non lo so, non mi aveva entusiasmato Perché non ero ancora diciamo patito di FIFA Quindi mi piacerebbe riprovarla, mi piacerebbe riportarla E anche qui fare un progetto italiano Ma alternarlo con giocatori tipo slovacchi, croati Diciamo di questo genere Poi per quanto riguarda la Spagna Selta Vigo e Mallorca Selta Vigo perché è già qualche anno che voglio farci una carriera Non ci sono mai riuscito per altri motivi Perché magari ho trovato altre squadre Eccetera eccetera Mi piacerebbe portarla perché mi piace veramente come squadra Mi piace come gestisce la primavera Non mi piace come gestisce la prima squadra E per questo vorrei provare a portarla E farci un grande progetto per portarla in alto diciamo Il Mallorca perché sono stato in vacanza a Mallorca E quindi mi ha preso il trip di fare la carriera con Mallorca Mi piacerebbe anche farla Poi due della Francia Ho messo Ajaccio e Ren Ren è da sempre che voglio farla E da sempre perché mi piace molto come squadra Mi piacciono i giocatori che ha Diciamo che sarebbe più una carriera con il Ren Da fare tipo una o due stagioni A dire tantissimo Tre E poi cambiare squadra Ovviamente Portando una carriera simulata Cioè con tutte le partite simulate Faremo più carriere Non farò Non inizierò tantissime carriere Quindi se dovessi riuscire Proseguirei Proseguirei in quella Nel senso andando negli incarichi In tutte queste cose Ajaccio Diciamo era l'alternativa Più plausibile per la Francia Perché Tipo il Lille Bordo Monaco L'ho già fatta E quindi volevo portare Volevo fare qualcosa di nuovo Diciamo Poi in Inghilterra Due squadre che mi piacciono Mi piacciono molto Una è il Newcastle L'ho fatta in FIFA 15 Però Ho fatto neanche tipo 4 stagioni Perché poi Perché poi è uscito il 16 E quindi L'ho dovuto abbandonare per forza E Mi piacerebbe riportarla perché Mi piace veramente tantissimo come squadra Mi è dispiaciuto tantissimo quando è retrocessa Infatti Quando il Chelsea diciamo Ho fatto pareggiare il Sunderland Me la sono presa tantissimo Perché Con quel pareggio il Newcastle è retrocesso E E niente Mi piacerebbe molto portare questa squadra Anche perché ha dei buoni giovani L'altra squadra inglese È il Bournemouth Mi piacerebbe molto Dall'aspetto di come fa il mercato Perché punta a comprare giovani Ma anche giocatori di esperienza Pagandoli il giusto Tipo Tipo Wiltshire Che è andato lì È andato in prestito Però sta giocando bene adesso Per farti riprendere Queste sono le mie idee della carriera Vi lascio il link per votarle in descrizione Non esitate ovviamente a passarci E Grazie a tutti quelli che voteranno Intanto adesso vi faccio vedere in questa partita Sono andato ai rigori Per farvi vedere anche Il nuovo modo Provato a dargli un po' più di potenza Non è venuto neanche male Attenzione Gol Impossibile portiere Però è già Molto Molto cut Diciamo da parte E il reale Diciamo Attenzione Il tiro della vittoria Della sconfitta Parata di nuovo di Courtois E niente Su queste immagini Di Courtois Che fa la dub dance Mi piace troppo farla Vi invito a lasciare un like Condividere il video se vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Passate nel link D'inscrizione Per votare la carriera Nella pagina facebook E in tutti i dati Mi social Per seguirmi E se per le novità Io vi ringrazio Vi saluto Noi ci sentiamo alla prossima Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti